A Kabul, in Afghanistan, è in corso un attacco contro un ospedale militare. Un commando armato è penetrato all'interno e le forze di sicurezza afghane stanno cercando di neutralizzare gli assalitori. Per ora il bilancio delle vittime è di due morti e più di 25 feriti. La testimonianza di un medico del centro che è riuscito a mettersi in salvo. Ero in sala operatoria quando è entrato un kamikaze con indosso un camice. Ha sparato verso di me, ma io sono riuscito a buttarmi a terra prima. Allora l'uomo ha colpito il mio collega. Sono scappato passando da una porta sul retro ricoperta da filo spinato. L'azione terroristica è stata rivendicata dal sedicente Stato islamico su Twitter, mentre i taleban hanno negato qualsiasi responsabilità. Secondo quanto si è appreso della dinamica, il commando sarebbe composto da quattro persone, due sono morte.